Prima della partita voglio partire dal pre-gara, dal bel applauso che ti ha tributato la GSM Forum. Credo che sia stato un bel momento per te intanto. Sì, allora ho vissuto due anni qua che mi hanno fatto tornare in Italia. Sono stato veramente bene, ho conosciuto tante belle persone, una città fantastica che veramente mi sono innamorato. Ero contento, anche un po' ansioso di tornare qua e trovare amici, anche ex compagni di squadra. Senti, parliamo della partita. È stata dura, durissima, combattuta, l'abbiamo portata a casa con carattere. Sono tre punti questi veramente importanti, lo diciamo sempre, ma anche per come sono maturati sono veramente importanti. Sì, è una partita che si aspettava così difficile perché loro venivano da due partite, belli carichi. Devo dire che anche noi siamo stati i primi dei due set sul pezzo, combattuti, belle cose. Il terzo, forse mi aspettava un calo anche, non so, emozionale, fisico, che è da migliorarlo, no? Però devo dire che anche loro, Kaczynski che si è gassato, ma il nostro bomber ha risposto bene. E niente, fare i complimenti a Leo che ha fatto una bella serie che ci ha portato a questi punti. Senti, che hai pensato sul 23-19 quando è andato Leo in battuta? No, allora, per un lato ero convinto che lui facesse qualcosa, per un altro mi stavo preparando per fare un altro set, sinceramente. Sì, niente da dire, tutti lo abbiamo visto e niente, bravo, è la sua qualità e quello che fa bene. Ha fatto tutti gli errori in tutta la partita, ma dopo alla fine ha lavorato per la squadra, perché questo non è un lavoro per lui, ha fatto per la squadra e niente, ha dimostrato di essere forte. Senti, l'ultima cosa, è appena caduta l'ultima palla, mercoledì però si rigioca. Due parole su Cisterna, sul prossimo avversario, torniamo a giocare in casa, è importante trovare continuità, no? Anche con Cisterna i risultati. Sì, noi pensiamo a vincere, da migliorare facciamo fatica perché siamo stretti. Io direi di tenere questo livello che è comunque buono. Si può migliorare, però spero che possiamo riposarci un po' e pensare da domani subito che andiamo in palestra, che sarà sicuramente, come sono tutte le partite, difficile, quindi mi aspetto di stare lì in campo. Non so se ci sarà il pubblico o no, ma comunque noi speriamo di essere tutti pronti e bene per fare una bella partita. Grazie Seba.